Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta a cioccolato ed arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero di canna, la scorza di un'arancia, succo di arancia, gran barnier che è facoltativo, uova, olio di semi di girasole, cioccolato fondente fuso, cacao amaro, lievito per dolci vanigliato e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e la scorza di arancia. Lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il succo d'arancia, l'olio di semi di girasole, le uova, le uova, la farina, il gran barnier, il cacao amaro, il cioccolato fondente fuso, il cioccolato fondente fuso, e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferire in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta a cioccolato ed arancia. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!